Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Telebari da Barbara Cirillo. In apertura la politica continua la corsa verso il ballottaggio di domenica 8 giugno. Oggi parla Domenico Di Paola, candidato del centro-destra. I voti in più di De Caro sono quelli dei grillini, spiega Voglio un vero confronto sui contenuti. Il servizio di Silvia Dipinto. Non può passare per uomo del fare un politico di professione, Antonio De Caro. E come uomo delle scarpe, chi invece, come me, è davvero un uomo del fare. Comincia con una provocazione la conferenza stampa di Domenico Di Paola. L'ingegnere, candidato del centro-destra, stropiccia le scarpe sulla giacca perché, spiega, non è possibile che della campagna elettorale rimanga solo l'immagine di preziose calzature illustrate con lo champagne. Poi l'analisi del voto di domenica. Il 18% dei consensi, tutte le preferenze dei 5 Stelle, si sono spostate su Antonio De Caro. Il suo vero programma è portare Grillo a Bari. Io sto cercando Grillo per chiedergli che indicazioni darà i suoi grillini il giorno del ballottaggio se andranno a votare per il braccio destro del suo peggiore avversario, almeno da quello che dicono. Il vero programma di De Caro, al di là delle tabelline e delle slide dette in 4 secondi, è quello di portare Grillo al Comune di Bari. Si aprono due settimane di vera campagna elettorale, ripete Di Paola, e non è escluso che a Bari arrivi Raffaele Fitto, ora nella top 10 dei più suffragati al Parlamento europeo. Ringrazio le liste che mi hanno sostenuto, al di là della performance che hanno ottenuto, perché questo poi eventualmente costituisce un elemento di valutazione loro interno. Verso il ballottaggio anche 4 municipi su 5, centro-sinistra in vantaggio, ma sarà sfida all'ultimo voto. Il servizio. Il primo municipio è il più popoloso, centro-sinistra favorito ovunque, almeno sulla carta. Domenica 8 giugno non si voterà solo per eleggere il primo cittadino, arrivano al ballottaggio anche 4 municipi su 5. Il primo turno, infatti, ha eletto solo Andrea D'Amacco, presidente del secondo municipio, San Pasquale, Carrassi, Picone e Poggio Franco. Il quarantenne barese, avvocato e consigliere comunale uscente di Rialta Italia, con il 52% delle preferenze, ha battuto Aldo Iannone del nuovo centro-destra. Partita apertissima, invece, nel primo municipio, quello che abbraccia i quartieri, Libertà, Miurasa, Nicola, Madonnella, Iapigio e Torreammare. Capovolgendo le previsioni della vigilia, Micaela Paparella, del centro-sinistra, al primo turno ha ottenuto quasi il 45% dei consensi, quattro punti in più di Massimo Posca, sfidante del centro-destra. A San Paolo San Gironamo, invece, in testa Massimiliano Spizzico del Partito Democratico, con il 44% delle preferenze. Contro di lui Francesco Ferrante, per il centro-destra. Va all'ottaggio anche nelle ex frazioni. A Carbonara Ceglie, Michele De Giulio, presidente di circoscrizione uscente, incassa il 37% dei voti, contro il 46% di Nicola Acquaviva, candidato del centro-sinistra. Infine, palese Santo Spirito, in vantaggio anche qui il centro-sinistra, con Giovanni Moretti, 47% dei consensi, fermo al 39% Nicola De Matteo, del centro-destra. Fuori dunque i grillini dalla sfida per la presidenza dei municipi, che si gioca tutta nel testa-testra fra i due schieramenti tradizionali. Si vota sulla scheda barrando semplicemente il nome del presidente. Questa mattina la conferenza unificata dei Ministeri dell'Interno, Lavoro, Welfare e Sanità ha approvato definitivamente, attraverso i fondi PON, il finanziamento di 4.700.000 euro dei PAC, i piani di azione e di coesione per la città di Bari. Lo rende noto un comunicato del Comune, in cui è precisato che 2.700.000 euro saranno impiegati per potenziare l'assistenza domiciliare e sociale degli anziani baresi e programmare nuovi intenti istituzionali anche in collaborazione con l'ASL. Gli altri 2 milioni saranno destinati invece a prolungare l'orario di apertura dei nidi comunali fino alle 20. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. La cronaca clamoroso arresto a Bari. Due finanzieri finiscono in carcere, avevano chiesto una tangente a un'anziana signora per non farle la multa. I particolari di questa incredibile storia da Cristina Ferrini. Chiedono una tangente ad una 71enne barese proprietaria di case per non farle la multa. Una mazzetta di 800 euro a fronte di una sanzione amministrativa di 9.000 euro che la donna, benestante, avrebbe dovuto versare allo Stato per aver affittato in nero un appartamento. Due finanzieri, un maresciallo e un appuntato scelto originari di Benevento Noi Cattaro, ma in servizio a Bari, sono stati arrestati dai carabinieri del reparto operativo per concussione in concorso. Sono stati colti in flagrante subito dopo aver intascato 800 euro in contanti chiusi in una busta, soldi che la vittima aveva consegnato loro sotto la sua abitazione. La donna, residente a Iapigia, aveva precedentemente denunciato la richiesta estorsiva ai carabinieri che, coordinati dalla procura di Bari, hanno organizzato la trappola. Ieri pomeriggio si sono appostati sotto casa dell'anziana signora e hanno assistito alla consegna del denaro. I finanzieri di 47 e 46 anni sono stati arrestati e portati nel carcere militare di Santa Maria Capuavetere. Le indagini, che si sono avvalse dell'ausilio del GICO della Guardia di Finanza, continuano per accertare se ci siano stati ulteriori episodi. Ennesimo dramma nel penitenziario barese. Un detenuto di 28 anni in attesa di giudizio per reati contro il patrimonio e la persona si è suicidato impiccandosi nel carcere di Bari. Lo rende noto la segreteria generale del COSP, il coordinamento sindacale penitenziario, secondo cui, dall'inizio dell'anno, sono sei suicidi avvenuti nel carcere di Bari e otto i tentativi di suicidio sventati. Ci sono situazioni a limite, con sovraffollamento detentivo, gravi criticità strutturali e sanitarie, grave carenza di dipendenti di polizia penitenziaria, denuncia il sindacato. Ma cambiamo argomento. Un sistema per la trasmissione telematica dei ricorsi presentati al prefetto contro i verbali di accertamento delle infrazioni. Presentato questa mattina in prefettura, è il progetto che consentirà l'informatizzazione dei fascicoli. Lo strumento cartaceo ricoprirà d'ora in poi un ruolo residuale. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali, i dirigenti dei comandi di polizia municipale dei comuni della provincia di Bari e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Entro l'estate partirà anche in Puglia il programma Garanzia Giovani che mette a disposizione dei giovani pugliesi 120 milioni di euro per formazione, apprendistato e ovviamente alla professione. Oggi nella sede della CGL Puglia un confronto su come gestire al meglio questi fondi. Ne abbiamo parlato con Serena Sorrentino, segretario nazionale CGL. Sentiamo. Oggi si parla di formazione professionale e si parla di Garanzia Giovani, una opportunità anche per i giovani pugliesi. Speriamo che sia veramente un'opportunità concreta e per questo che come organizzazione sindacale stiamo lavorando da tempo sia con la Regione sia a livello nazionale per fare in modo che la Garanzia Giovani non sia soltanto una campagna di propaganda dove tanti giovani che non studiano, non lavorano, non possano essere contattati dai centri per l'impiego ma sia un'occasione attraverso gli stagi, i tirocini, l'apprendistato ma anche percorsi di formazione professionale per tanti ragazzi che non hanno un percorso di inclusione di avere un primo contatto con il mondo del lavoro. Quanti soldi arriveranno alle Regioni e le Regioni sono preparate, per esempio la Puglia? Arriverà un miliardo e mezzo da spendere nei primi due anni per decisione del nostro Governo. Sono tanti soldi, sono soldi che vanno spesi in una direzione specifica che è quella delle prestazioni ai soggetti e non invece come potrebbe essere in progetti che non hanno poi una ricaduta reale per fare in modo che la Garanzia Giovani sia una reale opportunità. Una nuova frontiera per il trasporto di persone e merci con l'utilizzo di rotte spaziali e la riduzione dei tempi di viaggio. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio di Roberto Maggi. Volare da Roma a Tokyo in meno di un'ora utilizzando rotte spaziali e voli ipersonici sembra il soggetto di un film di fantascienza e invece è la nuova frontiera per il trasporto di persone e merci. Gli aerei che siamo abituati a utilizzare oggi infatti raggiungono una quota che tocca al massimo i 12.000 metri di altezza. L'utilizzo della tecnologia aerospaziale consentirebbe invece di superare tali confini dell'atmosfera raggiungendo velocità pari a 7 volte quelle di un normale aeromobile. Per la Puglia oltretutto si tratta di un'importante opportunità di sviluppo industriale vista la presenza già affermata del distretto aerospaziale. Un ruolo strategico in tale direzione è quello del Politecnico di Bari tramite ideale per la ricerca e la progettazione di moderni velivoli come ha spiegato l'astronauta Roberto Vittori. Il futuro è per aeroplani che voleranno più alto e più veloce Roma, New York in un'ora, un'ora e mezza Roma, Tokyo in due ore è fantascienza, in realtà no, la tecnologia sta rapidamente avanzando. Materiali di riciclaggio, pennelli e colori ma soprattutto tanta fantasia sono gli ingredienti che gli alunni della scuola primaria Gianni Rodari e delle scuole dell'infanzia a Ragneri, Padre Pio, Lombardo, Radice di Bari hanno utilizzato per realizzare i lavori esposti nella mostra dal titolo Arte ed Intorni allestita per un giorno nell'arena Giardino di Iapigia disegni dipinti a rilievo, mosaici e manufatti ispirati a diversi temi dai paesaggi della Puglia all'immigrazione hanno trasformato il parco in una vera e propria galleria d'arte in festa centinaia gli alunni che hanno partecipato al progetto Il tempo non ha scarpe presentata questo pomeriggio a Bari la raccolta di poesie della scrittrice Lucrezia De Feudis porta la sua firma anche la mostra allestita a Palazzo Barone Ferrara è possibile rinascere una seconda volta nella vita e cogliere appieno il senso del tempo assaporandone ogni istante come fosse la prima volta è anche possibile raccontare tutto questo attraverso l'arte antica e sempre nuova della poesia lo ha fatto Lucrezia De Feudis scrittrice nella sua raccolta di poesie intitolata Il tempo non ha scarpe una raccolta di opere, racconti, poesie in vernacolo viscellese Il tempo non ha scarpe quando il tempo passa, corre, fugge sono termini che noi usiamo normalmente però il tempo non ha scarpe noi lo inseguiamo io ho voluto inseguirlo e ho cercato le sue orme perché mi è stato donato dal cielo altro tempo e non voglio perderlo Cosa racconta questo libro? Gli stessi sentimenti sono stati trascritti in opere su tela nella mostra che porta lo stesso titolo del libro esposta a Palazzo Barone Ferrara La mostra racconta di questa passione della signora De Feudis per raggiungere un equilibrio fra il pensiero poetico, lirico e al tempo stesso una scelta cromatica questo desiderio di mettere dei colori sulla tela o sulla carta Diamo ora uno sguardo alle previsioni meteo per le prossime ore cielo nuvoloso le temperature saranno comprese tra i 14 e i 24 gradi venti moderati e mare poco mosso In chiusura come di consueto vi ricordo i nostri siti internet telebari.it, radiobari.net e per tutte le vostre segnalazioni il nostro indirizzo di posta dedicato infochioccio del segno di zorro.it E ora vi lasciamo allo speciale dedicato a Vasco Rossi da questo pomeriggio cittadino onorario della Puglia Creativa Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito Io sono commosso, a parte sono veramente commosso delle bellissime parole che avete detto e quindi non sono molto bravo con i discorsi e quindi mi ero preparato anche una serie di forze Sì, non sono abituato, anzi non sono bravo a fare i discorsi Incredibile ma vero, a parlare davvero Vasco Rossi lui che sulle parole ci ha costruito fame e carriera lui che da oggi è cittadino onorario della Puglia Creativa il primo per essere precisi a conferirli l'onorificenza il presidente della regione Puglia Nichi Vendola e l'assessore alla cultura Silvia Godelli Vasco ama la Puglia, legato alla gente e luoghi che ha scelto come patria elettiva in cui mettere in sintonia la sua voglia di libertà con la sua voglia di poesia ma sono tante le cose che il Blasco ama della nostra terra a partire dalla Taranta Quando ho visto questa danza mi è piaciuta molto perché le donne, con quelle donne lunghe e i piedi scalzi insomma quel modo che amo di danzare così gioioso, saltellando, leggere, leggiate insomma io mi sono, devo dire, anche un po' eccitato perché è molto sensuale E ancora il sapore dei pomodori il gusto diverso del cibo il primitivo ma soprattutto la straordinaria e famosa capacità di accoglienza della gente Mi accorsano questa famiglia con una, capito, con una felicità con una gentilezza con un affetto che io se arrivo qualcuno a casa mia alle 9 di mattina non apro neanche la porta non per dire com'è, capito, siamo già un po' più attenti invece qui c'è veramente una cioè siete veramente un popolo fantastico e anche bello anche belli anche belle sono le donne io poi guardo la bellezza solo nelle donne sinceramente negli uomini non la vedo però nelle donne la vedo E se non è del tutto escluso che Bari possa essere tappa del suo tour previsto per il 2015 Vasco Rossi ha annunciato una sorpresa per i prossimi mesi Il live com 014 parte da qui parte da qui perché per la prima volta le prove di 7 concerti 7, 7 eventi unici e che per la prima interna la facciamo qui in Puglia al Cromì di Castellaneta una splendida location naturalmente le prove sono a porte chiuse e conto sulla vostra proverbiale riservatezza affinché non diffondiate questa notizia grazie 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 grazie